La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2019 andrà in onda stasera, 9 febbraio, su Rai 1 I 24 big in gara torneranno a esibirsi sul palco dell'Ariston cantando il loro brano nella versione originale Alla fine della serata, scopriremo il vincitore assoluto di questa 69esima edizione della Kermesse Canora, condotta da Claudio Baglioni e dai copiloti Claudio Bissio e Virginia Raffaele Scopriamo, intanto, il programma è la scaletta di Sanremo dell'ultimo appuntamento Ascolti TV Festival di Sanremo. Ecco com'è andata la quarta serata.L.A. Quarta serata del Festival Sanremese è stata seguita da 9 552.000 telespettatori, pari al 46,1% di share. La serata dei duetti dell'anno scorso raccolse l'attenzione di 10 108.000 telespettatori con uno share del 51,1%. Numeri che, confrontando gli ascolti TV delle prime tre serate della Kermesse Canora, sembrano un po' deludenti Scaletta Sanremo 2019 dei 24 big in gara.Punto per la finale del Festival di Sanremo 2019, in onda sabato 9 febbraio in Prime Time su Rai 1, torneranno a esibirsi sul palco dell'Ariston i 24 concorrenti in gara che canteranno le loro canzoni nella versione originale Ecco la scaletta dell'ultima serata, in ordine alfabetico 2 punti.Punto Achille Lauro, Rolls Royce Anna Tatangelo, le nostre anime di notte. Arisa, mi sento bene. Bumdabash, per un milione Daniele Silvestri, Argento Vivo.Inar, parole nuove.Enrico Niggiotti, nonno Hollywood Exo Tago, solo una canzone. Federica Carta Fiteshade senza farlo apposta. Francesco Renga aspetto che torni Emon, rose viola.Irle e volo, musica che resta.Irama, la ragazza con il cuore di latta Lora Dana Bertè, cosa ti aspetti da me? Mahmood Soldi. Motta, dov'è l'Italia? Negrita, i ragazzi stanno bene Nec, mi farò trovare pronto.Nino D'Angelo Feat Livio Cori, un'altra luce.Paola Turchi, l'ultimo ostacolo Patti Bravo Fibrica, un po' come la vita. Simone Cristicchi, abbi cura di me. Ultimo, i tuoi particolari Dei Zincircus, l'amore è una dittatura.Scaletta Sanremo 2019. Gli ospiti d'eccezione Nella quinta e ultima serata della Kermesse Canora saranno presenti diversi ospiti Sarà presente Eros Ramazzotti, il quale ritorna sul palco dell'Ariston dopo 35 anni dalla sua vittoria con Terra Promessa Si esibirà con Claudio Baglioni e Luis Fonsi con cui canterà il brano per le strade Una canzone, tratto dal suo album Vita ce n'è Ci sarà anche la cantante Elisa, che canterà il suo ultimo singolo anche fragile Poi avrà l'onore di duettare un brano anche con il direttore artistico del festival